partiamo con delle tartine a salmone salmone caviale eccellente e solo caviale natale marone devo assolutamente investire la mia amica da scena che mi ha omaggiato di questa strappitosa cosa che è un caviale fantastico la città di papa giovanni secondo grande amica che mi ha portato questa squisitezza squisitezza una cosa meravigliosa grazie la scena ottimo e così con la calvola e soltanto un ottima carbonara siamo al pollo con lenticchie il reggamento a sapere frate mode un finale romantico la candela, non c'è il palettone l'uva che fiazza grazie